Inizio, primo incontro con il Presidente delle Regioni, quindi prima l'esamina dei problemi sul tappeto. Ovviamente il lavoro con i Presidenti delle Regioni l'abbiamo cominciato anche da tempo, ovviamente abbiamo già avuto la conferenza Stato-Regioni, però e poi vi devo anche dire che sono molto solerti anche i Presidenti a contattarmi anche personalmente per trattare questioni magari che riguardano ovviamente i temi del Ministero. Io, come ho detto anche loro, io veramente li ringrazio perché hanno una grandissima capacità di interpretazione del territorio e ancora sottolineo come il rapporto fra lo Stato e le Regioni non deve essere un rapporto di contrapposizione anzi, perché lo Stato italiano è fatto di Regioni, il regionalismo è insito veramente nel DNA dell'Italia, per cui chi meglio di loro sa rappresentare quelle che sono le esigenze del territorio e non è solo un interesse particolaristico, ma anzi è l'unico modo che in realtà lo Stato ha per capire come è fatto il suo territorio. Ci sono odio.